La scuola del futuro nasce dal presente, è il titolo del convegno promosso dall'AMP in programma a Roma nella giornata odierna del 22 novembre, particolarmente atteso era l'intervento del ministro Valditara che ha parlato proprio all'indomani del valo della legge di bilancio 2023 che per la verità ha lasciato un po' delusi molti osservatori a conti fatti e i capitoli di spesa del ministero dell'istruzione, la manovra finanziaria aggiunge circa 500 milioni di euro, un centinaio dei quali destinati ad incrementare i fondi per le scuole paritarie, ma ci sono anche un po' di soldi per l'edilizia scolastica perché, lo ha ribadito il ministro nel corso del convegno, la sicurezza deve essere una priorità assoluta. Ci sono però molti altri temi che Giuseppe Valditara ha voluto mettere in evidenza a partire dalla necessità di avere una scuola inclusiva fatta da insegnanti qualificati perché è anche in questo modo che si dà autorevolezza ai docenti. L'applauso della platea è arrivato nel momento in cui il ministro ha pronunciato la parola magica semplificazione che deve essere il vero e proprio antidoto ad una burocrazia definita da Valditara oppressiva. Ci sono poi questioni che secondo il ministro sono assolutamente strategiche come quella del merito che deve riguardare studenti e docenti. Valditara è tornato nuovamente sul tema della formazione tecnico professionale che deve essere assolutamente valorizzata. In Germania gli studenti che accedono ai percorsi di formazione tecnica superiore sono 900.000 mentre in Italia vanno poco al di là di 20.000 e per ottenere questo risultato bisogna migliorare le attività di orientamento delle scuole. Non bastano gli open day, ha detto il ministro, è indispensabile che le scuole si rapportino con il territorio per individuare le esigenze del mondo produttivo. io ce la metterò tutta, ha concluso il ministro, ma mi aspetto che tutti voi mi diate una mano.